Ciao a tutti, sono qui, vi sto presentando un nuovo prodotto della PIS, questa ADONIS, finitura black satin, misura 14, 12, 10, 12, 16, cassa da 22. E' un modello intermedio che però dà delle belle soddisfazioni. Sentite. E' un modello intermedio che però dà delle belle soddisfazioni. E' un modello intermedio che però dà delle belle soddisfazioni. E' un modello intermedio che però dà delle belle soddisfazioni. All I know is all I know 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 Grazie a tutti